E comunque poi devo esplorare meglio quell'altra zona Intanto vediamo qua se si può costruire Oh quella del fuoco si può costruire Sì vabbè Se ce lo permette sto zombie magari Ma vediamo un po' di No cos'è questo Ho sbagliato Allora questo qua Vediamo un po' se con questo qua si azoppa Anche se la vedo molto dura No va E' sparito Eh perché forse ho ottenuto troppo tempo No 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 Eh vabbè Fa un culo No dov'è dai Voglio costruire il bastone del fuoco Dov'è Ah maledetto Ok un'altra porta qua Ma dov'è Dai mi son perso Eh qui è qui Allora costruiamo Vediamo se gli altri si possono costruire magari Sì quello del ghiaccio lo facciamo dai Allora dammelo Eh purtroppo lo devo scambiare per questo qua Oh non me l'ha manco preso Ok Eh ok abbiamo Il bastone del ghiaccio Sì Eh comunque la mia teoria Del fatto che prima bisogna avere tutti i pezzi Di tutti e quattro i bastoni E poi si può costruire il bastone Non è vero E comunque questo bastone fa un po' cagare Non è una mia impressione mi sa Quindi andiamo di pistolina Che è una bestia in realtà in confronto Anche se Sì effettivamente comunque siamo a round 13 Il bastone non potenziato Eh Ovviamente Non è Guarda è più un ostacolo che Che un Che un aiuto sto bastone Cazzo Bel casino ora Eh Bel casino Ci dovrei costruire magari qualche altro bastone Vediamo se riesco a girare qua Anche se la vedo assurda come cosa Magari si può Tanto c'è pure Le piante che ti ostacolano Certo Allora Vediamo se Riusciamo a fare tutto il gruppo qua Magari con tutto il gruppo Potrei andare a potenziarmi Questo bastone Non lo so Ok Allora dovrei vedere dove si trova la pietra Tipo questa qua Eh Dentro il pacca punch Adesso tiriamo qua Una torta Un muffin Vediamo se faccio qualche zoppo Per sbaglio così Eh così l'ho fatto Bella Ammina qualcuno si è zoppato Magari tiriamo qualche colpo così Bella Uè Si esplosi tutti Vediamo se sono gli ultimi Anche se non credo Perché era appena iniziato il round E allora sono gli ultimi Oh Pare strano Ah no Stanno arrivando No non stanno arrivando Sono gli ultimi Ok Perfetto Quelli proprio che volevo io Si sono Annientati Allora Eh Vi tocca però Tirare giù Oh Cosa c'è qua Intanto Prendi un pezzo O prendi il pezzo Vai Perfetto Ah qui c'è un qualcosa Molto probabilmente si può Andare a Ecco ok Potenziare il bastone del ghiaccio Perfetto Quindi Dopo aver costruito Ogni singolo bastone Ci sarà appunto Il Potenziamento E si troverà appunto E si troverà appunto Nei teletrapporti Bene Molto bene Molto interessante Questa cosa Vediamo se riusciamo a uccidere Qualche zombie qua con No No perché non prende neanche Il coltello del bastone Poi cosa c'è Ah qui Comunque non c'era nulla No non c'era nulla Questo manco No non voglio rischiare di No evitiamo di sparare Perché poi Casomai Vado a uccidere Oh Eccolo qua Quindi il quarto La quarta pietra Per potenziare i bastoni Sì perché quindi ci sono Ben cinque teletrapporti A quanto pare E questo era il quinto Ok qui c'è l'STG Magari ci sono anche Altri pezzi di bastoni Mi sa di no Comunque Con questo Mi sa che abbiamo aperto Anche tutta la mappa Se non erro Mi sa di sì Abbiamo aperto tutta la mappa Quindi io direi di andare A costruire anche Gli altri bastoni Oddio Ha laggato Tipo Errore Andiamo a costruire Anche gli altri bastoni E vediamo se Se servono altri pezzi Intanto questo qua Del fuoco Ok Questo qua è quello Del ghiaccio Che ci ho equipaggiato Ok per questo Servono altri pezzi Questo pure Ah ok Quindi Come minimo Altri due pezzi Dobbiamo trovare Probabilmente Saranno nelle zone nuove Che Non ho visto Sì Sicuramente Anzi Allora Questa qui era una Delle zone nuove Mi sembra No questa è quella Il Juggeron No questa no Questa già l'avevo vista Questa qua Questa Questa no Pure l'avevo vista Questa era quella Della double tap Ecco Questa è nuova Questa è nuova Andiamo a vedere un po' Se ci sono anche altri pezzi Ora uno l'avevo già preso Mi sembra Un pezzo Subito all'entrata Poi Comunque dobbiamo trovare Almeno due pezzi Quindi Diciamo che Non sono tantissimi Ah qui non sembra Esserci nulla No a parte L'STG al muro Che Niente male Come cosa Ok Potrebbero essere Anche qua i pezzi Cioè anche in questa Passerella qui Oppure al piano di sotto Sì Di posto ci sono Oh oh Qui c'è il Bowie Attenzione C'è il Bowie E qua Vediamo se è glitchato Ma dopo anche glitchato Anche questo D'altronde Non è proprio Normalissimo Mettere una pietra Dei bastoni Elementali Dentro il Oh No ci sono le Gabrigan Peccato che ho messo Le Gabrigan Quelle scarse Diciamo Però vabbè Una me la faccio Tanto costa zero Magari mi dà In bella vista Coagulante Proprio Utile diciamo Un giocatore singolo Coagulante Quanto pari Non ci sono pezzi Di bastoni qua Aia Molto male Ok ragazzi Finalmente dopo Almeno una mezz'oretta Di ricerca Sono riuscito a trovare Un pezzo Quindi Ora possiamo andare A costruire anche L'altro bastone Forse Vediamo eh Non è detto che Sia l'ultimo mancante Allora Questo è già costruito Ok Possiamo costruire Quello elettrico E quindi Probabilmente ci mancherà Un altro pezzo Esatto Infatti per costruire Quello del fuoco No Quello del fuoco Già ce l'ho Quello verde Qual era Quello del Quello del tuono Cioè quello Dell'aria Diciamo Si Quello dell'aria Si 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 Perché quello del fuoco Allora io direi di andare a potenziare intanto Questo qua del fuoco Intanto vediamo dove è il potenziamento Qui c'è quello di ghiaccio No Qui non c'è niente Eccolo qua Quello del fuoco Perfetto Magari poi Non so Si sblocca qualcosa Si perché comunque È stato veramente difficile trovare Questo pezzo Beh poi in realtà Era tipo in mezzo a nulla Però siccome con tutte queste Piantagioni Cosi diciamo Ostacoli Bisogna veramente scannerizzare Ogni singola zona Cioè Bisogna passarci più che altro E anche se uno ci passa vicino Ma Ci passa Così a fianco Non compare Il premi quadrato E quindi Ti perdi il pezzo Diciamo Magari poi Può metterlo anche in posti Proprio veramente Piccoli Anche tipo qua sotto Potrebbe averlo messo Non so Una roba del genere Eppure Ovviamente ho guardato Ogni singola zona Però niente Niente Infatti ora Cerco ancora un po' Se non trovo nulla Andiamo avanti E niente One eternity later Oh ecco qua E finalmente anche L'ultimo pezzo Dell'ultimo bastone Tac Oh guardate dov'era Era qui Semplicemente Eppure Ho girato veramente L'infinità Per trovarlo Ok Andiamo A costruire anche Quest'ultimo bastone Ovvero quello Dell'aria Del vento Anche insomma Chiamatelo Come volete Eccolo qua Ok Andiamo anche a potenziarlo Così Andiamo a potenziare Tutti quanti Almeno sono già belli Ok Direttamente qui Perfetto Infatti ci compare già Direttamente Il bagliore Corrispondente Quando avete in mano Il bastone È veramente Molto indicativo Ok Boreale Furia boreale Sì dovrebbe Essere questo Il nome Uno dei più potenti Insieme a quello Del ghiaccio Comunque Di A livello Di colpo Forse il più potente Sì Tuttanto l'unica cosa Che il bastone C'ha un po' pochi colpi Però vabbè Comunque questi sono gusti In realtà ognuno Utilizza quello Che più preferisce Ok Potenziamo anche Questo qua Elettrico Comunque è veramente Originale Questa cosa Di mettere Comunque i bastoni Nei teletrapporti Buffa Al coltempo Perché comunque Vedi tipo La pietra Del bastone Di Origins Dentro il teletrapporto Qui ci sono veramente Troppi zoppi Mi chiudono Quindi forse È meglio fare il giro Ok Allora Io per adesso Prendo il bastone Del vento Anche perché Quello del ghiaccio Comunque Non l'ho fatto vedere Potenziato Comunque Già Sì vabbè Prendo il vento E prendo quello del ghiaccio Vabbè Quello del ghiaccio Appunto già l'ho fatto vedere Prima Quindi magari adesso Giochiamo un po' Con questo qua Del vento Però prima Vorrei farmi una cassa Vediamo dov'è la cassa Così mi cambio anche Questa pistola Se c'è Se c'è un'arma buona Ecco Solo se c'è un'arma buona Perché in realtà Appena arriva un munizion Al massimo Già me la ricarica Quindi Not bad Vediamo dove è la cassa Qui non c'è Qui nemmeno Allora è qua La bug è un sacco No nemmeno qui E allora è qua Ma impossibile L'ho vista raga Ah ok Infatti C'è quel quadro che non cosa Ok vediamo un po' Che arma ci dà E Oh Sono molto tentato A prenderlo Sapete Sono molto tentato E dai Prendiamolo Dai prendiamolo Perché è un'arma buona Mi piace Su Origin Se l'ho utilizzato Veramente tanto Questo qua E Anche molto forte E direi di utili Di Sparare qua Gli zoppi E Intanto Muro invisibile Guardate Muro invisibile Non posso andare Non si può cadere Vabbè Facciamo fuori Questi zoppi Ultimi rimasti Perfetto Round 14 Tanto Coagulante Sta andando via Dov'è La cassa No Non è di qua Ogni volta C'ho un problema A orientarmi Infatti È un casino Guarda C'è proprio Ma facciamoci Un Wunderfizz E via Questi 1500 Quasi girerei qua Vediamo che mi ha dato Widow's Wine Very good Tutti sti colpi Che prendo D'altro ha fatto Tutte La stanza Quella Diciamo Del Che figata Ha fatto la stanza Quella diciamo Del teletrapporto Classico No Con Il posto Dove i camperi A tutti però A tutti i teletrapporti Quindi veramente Buffa come cosa Cioè uno si immagina Vedere i classici Tre teletrapporti Di The Giant Invece poi si ritrova Sempre lo stesso teletrapporto Allora Sempre con questi punti Facciamoci un altro Wunderfizz Praticamente abbiamo Completato O il che e chi Sì dai Prendiamolo stavolta Mi ha portato fortuna Prima quindi Direi di prenderlo E Stavo dicendo Praticamente Si ha Ora l'unico obiettivo Che rimane È appunto Quello di Fuggire Quindi ottenere La quota Di 50.000 Punti Ma Ma È fake Sto bastone Fatemi capire E purtroppo Il round non è finito Allora Dove siamo Prendiamoci un bastone Intanto Visto che si può fa Ok Allora è qui Semplice Semplice Andiamo così E poi ci buttiamo Lì dentro Semplice Semplice Tanto c'è anche Il bastone Però l'effetto Potenziato Come mai No L'ha rianimato Ma ha tolto L'animazione Raga Ma Ma ha tolto L'animazione Io ho sempre tenuto Premuto quadrato Ma ha tolto L'animazione E poi Cioè Che cazzo Vabbè Vabbè È andata così Peccato Peccato perché Ci mancava L'endgame Poi comunque Avevamo finito La mappa Alla fine Quindi comunque L'ho fatta vedere Abbastanza Sta mappa Insomma Giocata anche Abbastanza Questa mappa Molto particolare Come avete visto Ora sicuramente Ci saranno parecchi Tagli Sempre se mi ricordo Di farli No dai Penso di sì In questo video In questa serie Di episodi Diciamo Perché comunque Molte parti Sono state Monotiche Nel senso che Io sono sempre Stato un po' Alla ricerca Dei pezzi Anche perché Ero molto sparsi E in maniera Molto Strana Ecco Più che altro È l'ambiente Ecco di questa mappa Che la rende particolare Poi in realtà Non è neanche Troppo complicata C'è un punto centrale Col pacca pancia La corrente E poi Attorno ci sono Tutti i vari Teletrapporti Con appunto I bastoni Elementali Niente male Niente male Devo dire Non troppo difficile Come tempo run Tempo run Era molto più difficile Non so se ve la ricordate Vabbè Io gli do Un bel 7 Dai 7 Non mi bilancio troppo Perché comunque Si mi è piaciuta Però non troppo Perché insomma Questa cosa Sono un po' particolare Un po' stile Diverse cose Diciamo Cosa ne pensate voi Invece di questa mappa Scrivetevelo qui sotto Nei commenti Io vi invito sempre Come al solito A lasciare un bel mi piace Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Se vi piacciono comunque I video come il genere Fatemelo sapere Con un bel mi piace Quindi noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo video Bella